Escalation di furti nel quartiere residenziale di Sala Bagnano a Salerno. I residenti, esasperati dalla situazione, hanno deciso di organizzarsi e riunirsi per ricorrere ad una vigilanza privata che possa far dormire loro sonni tranquilli, provvedendo di tasca propria alla sicurezza del quartiere. Abbiamo pensato di organizzarci da soli, cosci che le forze di polizia in campo sono sproporzionate rispetto all'ampizza del territorio, impegnate in problematiche varie e gravi talvolta e quindi stiamo organizzandoci per integrare il sistema di sicurezza di Sala Bagnano con una ditta autorizzata dalla Prefettura che possa operare direttamente su incarico dei cittadini. Una situazione preoccupante alla quale gli abitanti della zona vogliono finalmente porre fine anche con mezzi propri. C'è preoccupazione sicuramente non solo nel quartiere ma anche in altre zone, noi stiamo cercando di farci parte attiva senza indulgere in proteste rispettosi degli organi dello Stato naturalmente ma cercando di risolvere, di concorrere quantomeno a risolvere il problema.